La Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e la Guardia Costiera hanno eseguito tre provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei confronti di tre cittadini tunisini. I soggetti sono accusati di aver violato l'articolo 12 in quanto avrebbero collaborato per favorire l'ingresso illegale nel territorio italiano di 24 migranti tunisini. Secondo le accuse i tre avrebbero trasportato i migranti a bordo di un peschereccio con bandiera tunisina fino alle coste italiane per poi trasferirli su un tante in ferro e fuggire lasciando i migranti in condizioni di grave pericolo. L'episodio risale al mattino del 2 novembre quando l'aereo Eagle 1 di Frontex ha avvistato in acque internazionali un peschereccio tunisino che trainava un'imbarcazione in ferro vuota. Le autorità italiane hanno inviato sul posto una motovedetta della Guardia Agostiera di Lampedusa e una della Guardia di Finanza già operativa nella zona. Poco prima dell'arrivo delle unità di soccorso il peschereccio ha trasbordato i migranti sul natante in ferro e ha invertito la rotta dirigendosi verso la Tunisia. Le motovedette sono riuscite a soccorrere 24 migranti e a fermare il peschereccio per ulteriori verifiche. I provvedimenti di fermo sono stati eseguiti nella serata di lunedì a Lampedusa e i tre indagati sono stati trasferiti nel carcere di Agrigento in attesa dell'udienza di convalida.